Sono stati circa 40 gli interventi eseguiti nella giornata di ieri dai vigili del fuoco in seguito all'ondata di maltempo che ha investito la regione Marche. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, oltre alla messa in sicurezza di parti pericolanti. Domenica a Pesaro è stata tra le aree più colpite con decine di interventi concentrati lungo il litorale. Il temporale violento, ma relativamente breve, è stato sufficiente a causare disagi significativi. Il vento forte ha contribuito alla caduta di rami, bloccando diverse strade, tra cui strada della Puglia a Candelara e causando allargamenti in particolare nel quartiere di Santa Veneranda, il più colpito dall'evento. Anche il centro città ha subito danni, con tombini otturati da foglie e rami che hanno impedito il normale deflusso dell'acqua. Oggi l'ondata di maltempo ha provocato altri danni. A San Benedetto del Tronto la forte pioggia ha mandato sott'acqua sottopassi ferroviari, garage e scantinati in varie zone della città. Diverse le auto bloccate, all'opera i vigili del fuoco, operai del comune e personale della polizia locale.